Ciao Reclute, oggi siamo arrivati all'episodio 9 di questa seconda parte della quarta e ultima stagione dell'Attacco dei Giganti. Devo dire che il livello, proprio dal punto di vista dei contenuti, si è alzato rispetto allo scorso episodio. E non di poco. Non è un episodio ricco d'azione, ma è un episodio abbastanza introspettivo, visto che andremo a scavare a fondo nella mente di molti personaggi. Un personaggio che verrà in particolare approfondito in questo episodio è Gian. Infatti l'episodio inizia con un suo sogno, nel quale lo vediamo felice mentre vive in una bella casa assieme a Mikasa e suo figlio, totalmente spensierato mentre beve un buon liquore. Purtroppo per lui il suo sogno sarà interrotto da Ange che lo sveglia, per discutere assieme a Mikasa sul da farsi. Noi sappiamo chiaramente che Gian è contrario allo sterminio, tuttavia non è fermo nelle sue idee tanto quanto Ange, in quanto soffre molto a pensare di come, annullando lo sterminio, tutta la fatica che hanno fatto finora è andata buttata, perché comunque alla fine l'odio del mondo esterno ritornerà comunque all'isola di Paradis prima o poi. Infatti a tratti sembra quasi esitare, mentre Ange di contrasto è un personaggio molto più deciso, lei sbatte il pugno al tavolo e alza il tono della voce proprio per far capire quanto per lei non sia assolutamente tollerabile lo sterminio. Il personaggio di Mikasa non si spende in troppe parole, però ne dice poche ma chiare, lei è assolutamente disposta a fermare Eren. Tra l'altro è molto bello perché alla fine del loro discorso vediamo una scena molto significativa nella quale appaiono sullo sfondo tutti i vari soldati caduti dal corpo di ricerca e devo dire che dal punto di vista registico mi è piaciuto molto ma davvero molto come hanno realizzato questa scena, non che mi aspettassi meno da mappa. L'episodio sarà interamente un episodio di dialogo, dove vediamo tutti i nostri personaggi riuniti, quindi il solito gruppo dei protagonisti del corpo di ricerca, quindi Gianmi, Casalevi, Ange eccetera, e dall'altra parte il gruppo di quelli oltre il mare, dove abbiamo Yelena, Onian Coppon, Magath, Pieck, Enni e Reiner. Tanto in questo episodio veniamo a scoprire come Yelena non sia davvero il Diana, ma in realtà abbia origini marleane, semplicemente ha finto per tutto il tempo di essere il Diana in seguito al suo incontro con Zeke. Zeke infatti ricordiamo che è un personaggio che ha ammaliato Yelena, che è quasi ossessionata da lui, lo vede quasi come un salvatore, una divinità, le utilizza proprio il termine divinità tra l'altro in un episodio per descrivere Zeke, e quindi si è voluta schierare diciamo dalla parte degli Eldiani, fingendosi una di loro, perché era molto delusa dalla piega che stava prendendo Marley. Comunque come possiamo immaginare abbiamo dei personaggi che finora si sono sempre scontrati tra di loro, e ovviamente per quanto adesso abbiano un obiettivo comune e siano tutti seduti assieme a tornare un fuoco, è impensabile immaginarsi che adesso vadano tutti ad amore e d'accordo. Infatti abbiamo degli scontri verbali molto accesi. Il primo che vediamo è quello fra Jan e Magath, che è uno scontro che riassume in generale quello che è lo scontro far Paradis e Marley. Da una parte abbiamo Magath, che vede gli abitanti di Paradis come demoni, e li vede ancora perché effettivamente quello che sta succedendo a Paradis è l'inizio del rambling, quindi dello sterminio dell'intero mondo esterno. Cioè da un certo punto di vista è più che comprensibile il pensiero di Magath. Cioè che Yewyd effettivamente lui vede quelli dell'isola di Paradis come demoni, ma a Paradis è quello che vede è la marcia dei colossali che vanno a radere al suolo il pianeta. Cioè come puoi dargli torto? D'altra parte abbiamo Jan, che non ha torto nemmeno lui, perché ovviamente non è che quelli di Marley siano da meno, anzi tutto questo è successo perché la madre di Eren è stata mangiata, ricordiamo. E il motivo per cui loro finora hanno combattuto, il motivo per cui sono diventati dei soldati effettivamente è il fatto che dovevano difendersi dai giganti, chi ha mandato chi? Marley appunto. È un continuo rimbalzarsi la colpa, Magath arriva addirittura a dare la colpa a quello che era successo 2000 anni fa, quando Yewyd aveva soggettato Marley, che effettivamente è stata sempre la scusante dei Marleyani, attaccarsi a un evento che è successo ormai 2000 anni fa. Un altro scontro molto interessante è quello fra Mikasa e Annie. Annie infatti è fortemente convinta che per stoppare la marcia l'unica opzione sia uccidere Eren, e si chiede giustamente quale sia il piano per ucciderlo, cioè quali siano le idee, perché chiaramente il potere di Eren è qualcosa di incredibile, cioè di avere un piano molto solido per fermare una roba del genere, soprattutto contando che volendo Eren può manipolarli in quanto è il di Annie. Mikasa invece dice di essere aperta al dialogo, che è possibile fermare Eren convincendolo. Ma anche qua Annie non ha tutti i torti, perché è un pazzo che ha deciso di esterminare l'intero pianeta. Non è che lo convinci così semplicemente a abbandonare il suo piano, cioè non è che un minuto vuole esterminare l'intero pianeta e quello dopo no. Basta, non voglio più uccidere nessuno, Mikasa mi è convinta, vai tranquilla. Qui è bello vedere quando questi personaggi si scontrano fra di loro, perché hanno tutti contemporaneamente torto e ragione. Insomma, questo episodio è il riassunto di Attack on Titan, delle fazioni che si scontrano, delle fazioni che sono entrambe sia nel torto sia nella ragione. È tutta una questione di prospettive, di come vediamo le cose. Dobbiamo impedersi nei personaggi per capire che quello che ci sembra un cattivo, in realtà forse cattivo non è, è quello che ci sembra un buono, forse un cattivo. Oppure molto semplicemente arrivare alla conclusione che buoni e cattivi non esistono. Siamo quindi arrivati ora all'ultimo scontro, che è il più personale di tutti, fra John e Rainer. Abbiamo infatti questa scena dove Rainer ed Annie iniziano a spiegare cosa ci sia stato dietro la morte di Marco. Ricordiamo infatti che Marco aveva sentito parlare Rainer e Berthold, scoprendo quindi della loro vera identità. Allora, cosa ha fatto Rainer? L'ha tenuto fermo e ha costretto, tra virgolette, Annie a togliergli il dispositivo di manovra tridimensionale per lasciarlo là mentre un gigante lo divorava. Quello che fa incazzare davvero John, se ci fate caso, non è tanto il modo in cui l'abbiano ucciso. Oddio, è anche quello ovviamente perché ha ucciso una delle persone a lui più care. Ma il fatto che dopo aver fatto questo racconto, Rainer esprima un forte senso di colpa, dicendo addirittura come si stesse chiedendo dopo cosa stesse succedendo, quando è stato lui stesso a causare la sua morte. E questa cosa fa incazzare non poco John, che corre contro Rainer e lo prende a pugni. D'altro scena non censurata, quindi brava mappa. Scena molto violenta, visto che si vede molto sangue mentre John lo picchia appunto. Fortunatamente verrà fermato dagli altri. Abbiamo anche Gabi che cerca di difendere Rainer e mettendosi in mezzo si prende un bel calcio fortissimo da John. Diciamo che non le invidio. Comunque l'episodio si conclude con l'alba nella quale i nostri personaggi stanno andando verso il porto di Paradis, il quale scoprono però essere completamente invaso dagli yeageristi, che tra l'altro hanno in ostaggio la signora Zuma Bito, come vediamo nell'ultima scena dove Floch la tiene in ostaggio con una pistola in mano. Tra l'altro è molto bella e molto significativa una scena nella quale tutti stanno viaggiando assieme e c'è John che chiede scusa a Gabi per averle dato il calcio il giorno prima e dice esplicitamente a Rainer come a lui non si è intenzionato a chiedere scusa. E chiaramente Rainer dice sì, va bene, perché è ovvio che non può pretendere delle scuse dopo tutto quello che ha fatto. E questa è anche un'ulteriore dimostrazione che i suoi sensi di colpa siano sinceri. Devo dire che questo episodio, nonostante non sia pieno di azione, è molto bello, perché andiamo a scavare a fondo i personaggi, soprattutto nei personaggi di John e Rainer, che a me piacciono molto e meritano il giusto approfondimento, secondo me. E comunque è un finale che ci lascia in hype e in attesa del prossimo episodio, visto che è un po' una bomba vedere come gli yeageristi abbiano già occupato il porto, che ricordiamo hanno raggiunto prima utilizzando le locomotive, e vedere addirittura la signora Zumabito in ostaggio. Quindi dai, tanto tanto hype, ci stiamo avvicinando alla fine, dovremmo finire col capitolo 130 o il 131, non ricordo bene. Siamo là, io vi aggiornerò se ci saranno notizie di film, altri episodi o qualunque cosa, anche se ormai lo sapete, io credo fortemente ci sarà un film. Vi lascio qua nelle schede un video dove spiego il perché. E niente, è tutto ragazzi, io come al solito vi invito a lasciare un mi piace se vi va di supportare il mio lavoro, iscrivervi per non perdervi un sacco di contenuti sull'attacco dei giganti e sul mondo manga-anime in generale, io vi saluto e come al solito vi lascio i video che vi verranno proposti nella landcard. Ciao!